il nostro corpo è un gran chiacchierone comunica continuamente e manda un sacco di messaggi se noi sappiamo leggere i messaggi del nostro corpo a degli altri possiamo avere moltissime informazioni sullo stato di benessere sullo stato di emozione su ciò che pensa profondamente un'altra persona do alcune indicazioni generali in questo video intanto dobbiamo tenere presente che qualunque emozione in qualche modo si riflette nel nostro corpo nell'atteggiamento del nostro corpo nella postura nei micro segnali in cosiddetti scarichi di tensione che emettiamo ma anche se viviamo dei grossi disagi si riflettono in modo più marcato nel nostro corpo attraverso ad esempio delle somatizzazioni o fenomeni di questo genere intanto teniamo presente questo che una rigidità mentale corrisponde ad una rigidità posturale del corpo perché mente corpo sono intrinsecamente uniti quindi persone che sono molto rigide che vedete molto contratte hanno una rigidità mentale corrispondente a meno che perché poi bisogna sempre fare riferimento al contesto generale non stiano vivendo una situazione tensionale contingente molto molto elevato quindi da questo punto di vista bisogna conoscere un po la persona se normalmente appare una persona rilassata morbida con movimenti influenti e poi dopo me la trovi rigidità bloccata tesa contratta e allora significa che è capitato qualcosa di contingente ma ci sono persone che invece hanno sempre o molto spesso una rigidità posturale e proprio una rigidità come se ci fossero sempre delle scariche di energia che tenessero bloccati contratti un po contratti muscoli soprattutto i muscoli dorsali diciamo il muscolo trapezio si sentono proprio una contrazione questo significa che c'è una rigidità mentale significa che la persona è molto costretta è costretta probabilmente dai valori dalle credenze dalle imposizioni che ha ricevuto invece le persone sciolte che si muovono in modo fluente rilassate hanno un anno una minore rigidità mentale minori schemi mentali e lasciano e vivono molto meglio l'emotività però se questa diventa eccessiva diventano persone eccessivamente emotive e quindi questo eccesso di emotività li porta a lasciarsi molto trasportare dall'onda delle emozioni per cui persone eccessivamente emotive sono un po come farfalle che volano di fiore in fiore anche nelle relazioni sentimentali oggi si innamorano follemente di una persona e mandano a bagno quello che avevano costruito magari per mettersi con questo domani ne trovano un altro e quindi sono si lasciano un po trasportare sono persone che appaiono veramente eccessivamente rilassate a livello posturale e l'equilibrio diciamo in media virtus est persone che hanno una loro impostazione non un'eccessiva rigidità denota un equilibrio cioè un equilibrio posturale alla fine riporta anche un equilibrio interiore anche la gestualità nei movimenti da un certo punto di vista riporta alla capacità di elaborare un'informazione le persone visive ad esempio che elaborano l'informazione in modo prevalentemente visivo hanno una gestualità più diretta più lineare le persone uditive che sono più lente nell'elaborazione tendono avere una gestualità più circolare perché la linea retta è un qualcosa che va diretto come il senso della vista preciso diretto il fatto di fare movimenti erzigogolati riporta un po al processo mental di elaborazione del pensiero che diciamo quindi uditivo più complesso è anche molto più lento la persona deve ripetersi dentro le cose darsi le risposte farsi delle domande e quindi se osserviamo appunto anche il tipo di cinesica di gestualità riusciamo anche a capire come questa persona elabora le informazioni per cui riusciamo a capire anche come poter interagire nel modo migliore con questa persona se se abbiamo a che fare con una persona uditiva dobbiamo farla parlare sintonizzarci sulla sua stessa lunghezza d'onda non metterle fretta viceversa con una persona visiva dobbiamo essere più diretti precisi arrivare subito al dunque poi c'è tutto il capitolo ad esempio delle somatizzazioni che si manifestano sull'epidermine l'epidermine comunica con col mondo col mondo esterno e non lo so ad esempio ci sono quando si ha la paura di una perdita o di perdere qualcosa tendiamo a perdere qualcosa tendiamo ad esempio a perdere i capelli non è il mio caso nel senso che sono persone che hanno i capelli che hanno perdono magari qualche qualche ciocco una lopecia concentrata nel mio caso avrei perso completamente tutto però sono manifestazioni che si che si localizzano in in un punto quindi il timore della perdita che può essere il timore di essere abbandonati il timore di restare soli il timore di perdere qualcosa a cui si tiene che può essere un figlio una figlia un un genitore la perdita di un genitore alle volte si si manifesta proprio attraverso la perdita di qualche cosa e i capelli è un però ovviamente non è che devo prendere una persona calda come me e diceva tu allora hai perso tutto no sono persone che hanno i capelli quindi che non sono calde con i capelli anche donne ad esempio e hanno in alcuni punti del proprio delle una lopecia localizzata una capelli più diradati insomma in alcuni punti e poi ce ne sono moltissime perché il corpo parla per metafora insomma ci comunica per metafora ed è interessante conoscere i messaggi del corpo perché ci danno la possibilità di conoscere bene le persone che che ci circondano bene per questo video è tutto vi do appuntamento al prossimo vi invito a seguirmi su blog http www lance 두onazif.com ciao